Ma in realtà la mia prima vocazione era il dibuixo. Lo che volevo fare era dibuixare. Se con 15-16 anni mi chiedessero che volevo fare nella vita io gli ho detto sempre di essere dibuixante. E in realtà io volevo studiare Bellas Artes. Lo che passa è che, per un errore administrativo nella Facoltà di Bellas Artes si equivocarono e mi mandarono a un'altra carriera che è la di Cine. E beh, come avete capito, lui in effetti all'inizio voleva fare l'illustratore, voleva disegnare però per un errore all'Accademia di Belle Arti purtroppo l'hanno messo nell'indirizzo cinema piuttosto che nell'indirizzo di illustrazioni dunque si è trovato a fare il cinema insomma, a fare piuttosto scenizzature che illustrazioni. Perché un poco, creo che la risposta a esa pregunta in la risposta a esa pregunta sta lo che te conecta a ti con la historia, no? Se hai la tua necessità di contarla perché le basta dedicare 2-3 anni di tua vita a un progetto, no? deve essere qualcosa che realmente ti importa e di quello che ti merezca la pena stare parlando 3 anni di tua vita, no? Dice un buon tema di conversazione vas a stare 3 anni parlando di qualcosa che ti importa e che ti affette, no? è qualcosa di cui tu vai a crederci quindi non solo personale ma è proprio una cosa che dovrai avandare cioè portare avanti per 3-4 anni insomma per quel che deve durare il progetto è un, come dice lui, un tema di conversazione che ci si avrà per molto tempo e quindi ci si deve credere e ci si deve avere proprio la voglia di fare però replanteeroslo così, no? io credo che al final fare una pelicula è come mantenere una conversazione, no? una conversazione che va a durare molto tempo quindi meglio elige algo che ti interese perché altrimenti ti aburrere molte volte durante il processo e senza curiosità non si può è difficile essere un buon escriptore un buon contatore è molto importante la curiosità essere molto attenti e interessati nella vita che ti rodea nelle persone nelle notizie in tutto il tuo intorno nel conto una storia devi capire molto bene cosa accade intorno però devi avere proprio la curiosità la voglia di saperlo questa capacità di sorpresa che tiene molto a vero con l'innocenza è conservare parte dell'innocenza che tutti abbiamo o abbiamo tenuto in alcun momento e non perdendola la capacità di vedere le cose sempre come fosse la prima volta con una certa ingenuità l'attore protagonista della mità di Oscar che è stato proiettato ieri sera al concorso l'attore dell'attore l'attore 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 tutto quello che non si dice è molto più importante in questa film quello che non si dice che quello che si dice il sonore e l'attore 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 perché forma parte di quella che in tutti noi una tragedia come è la come è la che vive il personaggio l'attore 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 di Maria come ha detto che le ha chiesto di fare un corso di come guardia giurata ma l'inizio doveva essere semplicemente un corso un po' assistere quella però lui alla fine si è impegnato e ha preso anche il il diploma il si la patente per fare la guardia giurata dice che questi tempi che girano non si sa mai può sempre tornare utile qui ci sarà un breve saluto dal regista via video grazie buongiorno sono Matteo Demy e non parlo italiano quindi vorrei parlare con voi in inglese sono molto felice di presentare il mio film Americano oggi e inforzamente non potrei con voi perché ho lavorato sul dvd bonus del film quindi siamo qui in l'office del film del film di edizione del film edizione edizione del bonus con Angelos ciao ciao questo è dove stiamo fare questo lavoro mi in Paris voilà spero che vi i tra i di non vi festivo per inviare la foto ciao